Buongiorno, riprendiamo l'esercizio Elenco Corsi che avete iniziato nel discorso con il professor Corna. L'obiettivo di Elenco Corsi è quello di creare un'applicazione in Java che, dato un periodo didattico, permette di selezionare i corsi relativi a quel periodo didattico. Per questo avete definito un'interfaccia grafica che permette di inserire un semestre o un periodo didattico, un intero. Poi si clicca sul bottone Cerca, l'applicazione si collega al database, al database di scritti i corsi, estrae le informazioni relative a quel periodo didattico e infine l'applicazione stampa i corsi per quel periodo didattico. Come strutturare l'applicazione? Abbiamo tre packages, i packages di tipo lit o tdp corsi, dove viene implementato, dove c'è l'implementazione del controller. Abbiamo il package del db, dove implementeremo la logica per l'accesso al db. Abbiamo il package model. Nel package model implementiamo tutta la logica dell'applicazione. Quindi per ricapitolare il controller parla con il model e il model parla con le classi DAO nel package db. Quindi iniziamo dal model. Nel model avete definito un metodo lista corsi semestre. Questo metodo lista corsi semestre istituisce una lista di corsi dato un periodo didattico. Abbiamo detto che il model non parla direttamente con il database, ma parla tramite il DAO. Quindi il DAO astrae al model i dettagli di come i dati vengono estratti dal db. Questo perché se un giorno cambiassimo il supporto su cui i dati vengono salvati, quindi passassimo da un database a un file, solo l'implementazione del DAO cambierebbe, non quella del model, perché l'interfaccia tra model e DAO è stata definita e non viene più cambiata. Quindi come implementare il metodo lista corsi semestre? Il cuore del metodo è l'estrazione dei dati dal db. Per questo abbiamo un metodo list all che restituisce, un metodo list all del DAO che restituisce tutti i corsi, corsi che poi vengono filtrati sulla base del periodo didattico. Vengono salvati all'interno di una lista risultato che viene poi restituita. Questa è la prima implementazione possibile, ossia ottenere tutti i corsi, filtrarli sulla base del periodo didattico, però effettuare il filtro in Java e restituire il risultato. La seconda implementazione possibile è quella di filtrarli direttamente nella QI SQL, in modo tale che già le informazioni che mi restituisce il database sono quelle che voglio visualizzare, sono quelle di cui ho bisogno, quindi non effetto più alcun filtro in Java. Come implementare questo secondo metodo? Commentiamo il codice relativo all'opzione 1 e decommentiamo quello relativo all'opzione 2. Avete già definito un metodo list by pd, un metodo del DAO. Dobbiamo implementare questo metodo list by pd in corso DAO. Il codice con cui effettuiamo la query è lo stesso, di list all, quindi possiamo copiarlo, perché il codice segue sempre uno stesso pattern. Tuttavia la differenza è che questa volta dobbiamo aggiungere una clausola where, perché è lì che andiamo a fare il filtro e scriviamo where pd uguale punto interrogativo. Questa è la sintassi che il prepare statement si aspetta, perché il prepare statement compila la query effettuando le sostituzioni necessarie. In questo caso dobbiamo sostituire al punto interrogativo il periodo didattico che noi passiamo come parametro al metodo list by pd. Quindi scriviamo st.setint, a cui passiamo due parametri. Il primo è la posizione del punto interrogativo, in questo caso ce n'è solo uno, quindi scriviamo uno. Il secondo è il parametro pd, ed è quello che passiamo al metodo list by pd. Il resto del codice rimane uguale perché alla fine il risultato è sempre un corso, quindi otterremo le informazioni codins, crediti, nome, pd, che estraiamo dal risultato della query, le salviamo in un oggetto corso, l'oggetto corso viene poi salvato all'interno di una lista di corsi che restituiamo al fondo. Quindi vi faccio notare alcuni pattern all'interno di questo metodo. Prima, definiamo come prima istruzione una query, SQL. Definiamo una struttura dati in cui salvare il risultato. Questo result viene poi restituito dal metodo come ultima istruzione. Definiamo un try catch perché stiamo effettuando delle operazioni sul DB e il DB può dare errore perché, ad esempio, la connessione può essere chiusa quando tentiamo di connetterci al DB. Ad esempio, il database potrebbe non essere raggiungibile, il database è uno server. Quindi effettuiamo l'operazione di try catch. Nel catch andiamo a catturare una possibile Java SQL SQL exception e la logica che implementiamo per la gestione dell'eccezione è quella di lanciare una nuova runtime exception. Quindi poi dovremmo gestirla nel model in modo tale per far sì che l'applicazione non vada in crash nel caso in cui venga generato un SQL exception. Ultima informazione importante è quella come fa il corso DAO a ottenere una connessione al DB? Lo fa tramite il driver manager, quindi tramite il metodo getConnection di driver manager che restituisce una connessione al DB. Come ultima operazione la connessione viene chiusa. Quindi prende la connessione, vengono fatte una serie di... viene effettuata la query e poi in ultimo la connessione viene chiusa. Se andiamo in test model possiamo testare il metodo che abbiamo appena implementato all'interno del model, che abbiamo appena reimplementato per meglio dire all'interno del model. Lo eseguiamo, otteniamo un errore che è dovuto all'url di JDBC perché nel mio caso non devo inserire la password però questo dipende da come abbiamo installato il database MySQL quindi ognuno avrà un caso a parte. Proviamo a rieseguire il test model e otteniamo lo stesso risultato che abbiamo ottenuto prima con l'opzione 1, che avete ottenuto prima con l'opzione 1. Quindi ricapitolando, nel model abbiamo due possibilità per implementare questa funzionalità di ottenere la lista di corsi dato il periodo didattico. La prima è quella, query semplicissima e operazione di filtro in codice Java quindi query semplice, codice un pochino più complesso. Seconda opzione, query un pochino più complessa perché devo aggiungere la clausola where ma nessuna operazione di filtraggio perché questa è già stata fatta a livello del database. Se vedete, nel secondo caso, il codice è molto più semplice quindi suggerirei sempre di, quando possibile, di sfruttare l'opzione 2. Siccome abbiamo implementato il model e l'abbiamo testato nel test model ora è il momento di collegare il controller al model. Come fare? Abbiamo un metodo handleCerca che viene chiamato quando si clicca sul bottone cerca. Qual è la logica che dobbiamo implementare a livello di interfaccia? Fare il parsing del testo TXT semestre trasformare questo testo in un intero che è il nostro periodo didattico passare questo intero al metodo lista corsi by semestre di model lista corsi semestre di model quindi dal controller dobbiamo chiamare il model otteniamo una lista di corsi che poi stampiamo in TXT log. Per fare tutto questo il controller deve potersi collegare al model e abbiamo visto nelle lezioni scorse avete visto nelle lezioni scorse che per poter la classe che è incaricata di collegare il model al controller è la classe main quindi nella classe main noi andiamo a specificare andiamo a creare un nuovo modello model model uguale new model e lo andiamo a settare nel controller per settarlo dobbiamo utilizzare utilizziamo un metodo un nuovo metodo set model quindi controller.set model a cui passiamo il model appena creato tuttavia non abbiamo ancora l'oggetto controller come facciamo a ottenerlo? Possiamo farlo utilizzando l'fxml loader quindi scriviamo corsi controller controller quindi creiamo una nuova variable controller è uguale a loader.getcontroller come fare a ottenere il loader? se vedete il loader viene definito qui però direttamente viene chiamato il metodo load sull'fxml loader invece noi dobbiamo separare queste due operazioni perché abbiamo bisogno del puntatore all'fxml loader quindi scriviamo fxml loader loader uguale a new fxml loader a cui passiamo questa istruzione get class get resource corsi fxml quindi il loader fa il parsing nel file fxml e associa l'interfaccia creata al al nodo che è il padre della gerarchia dell'interfaccia che è il nodo root di borderpane quindi borderpane root cast su borderpane di loader.load abbiamo ottenuto il loader dal loader utilizziamo il metodo get controller per ottenere riferimento al controller a questo punto abbiamo creato un nuovo model settiamo il model appena creato nel controller di cui abbiamo riferimento tutto questo perché? perché è possibile creare delle applicazioni in java con più di un controller ma stesso model perché il model è unico perché il model è quello dove viene implementata la logica dell'applicazione e per poter associare lo stesso model a più controller dobbiamo utilizzare l'unico posto corretto per farlo è il main in realtà tutte le applicazioni che noi creeremo in questo corso avranno un solo controller ma questo rimane comunque il metodo più corretto dove fare questa operazione ora ci rimane che implementare il metodo set model all'interno di controller quindi all'interno di set model vado a impostare il model che ho creato vado a assegnare il model che ho creato nel main al controller ho bisogno di una variabile privata globale di tipo model che viene assegnata poi nel metodo set model quindi dis.model uguale model a questo punto il controller ha accesso ai metodi del model e ricordiamoci che il metodo che ci interessa è model.listacorsismspd ci manca ora il pd periodo didattico quindi int pd uguale integer punto get integer data una stringa e la stringa è quella di txt semestre punto get text quindi prendo il testo che l'utente ha inserito all'interno della textfield lo trasformo in un interno che passa al modello il model mi restituisce una lista di oggetti tipo corso corso nel nostro contenitore import java util a questo punto itero sulla lista di corsi quindi for corso c due punti corsi cosa faccio stampo e lo stampo nella text area che si chiama txtlog quindi txtlog punto append text scrivo c punto to string siccome voglio andare a capo dopo ogni corso scrivo più backslash n per aggiungere la capo altrimenti tutto mi verrebbe stampato su una sola riga sono ancora due operazioni da fare prima appena entro devo pulire la mia text area quindi txtlog punto clear seconda operazione quella di try catch quindi perché è possibile che durante la conversione da stringa intera venga generata un'eccezione quindi aggiungere un try catch e l'eccezione da gestire è number format exception e in tal caso scrivo txtlog punto set text inserire un periodo didattico uno o due quindi potrei anche fare il controllo che il periodo didattico inserito dall'utente sia uno o due quindi if pd è diverso da uno e pd è diverso da due txtlog txtlog punto set text inserire un periodo didattico uno o due in questo modo se l'utente inserisce un numero che non è uno o due mi stampo un errore e ritorno se inserisce un numero corretto che è uno o due chiamo il metodo lista corse semestre del model se non inserisce un numero entro nel cache vediamo ora se è corretto quello che abbiamo implementato quindi eseguiamo l'applicazione clicchiamo su main se scriviamo ciao abbiamo un errore questo perché abbiamo una null pointer exception su corsi controller già in particolare su txt semestre punto get text come mai vediamo txt semestre la cosa più semplice è effettuare il debug dell'applicazione quando abbiamo un errore quindi mettiamo un punto di debug eseguiamo l'applicazione in debug cliccando su questo simbolo inseriamo un semestre facciamo clic su cerca entriamo nell'interfaccia di debug a questo punto utilizziamo questi due bottoni nell'interfaccia in alto a sinistra per passare al metodo successivo per entrare nel metodo in realtà voglio entrare perché voglio capire come mai mi da null pointer exception quindi entriamo siamo all'interno di text input control quindi siamo all'interno della classe text field e get text ritorna 2 mentre integer punto get integer mi ritorna null pointer exception controlliamo che allora il metodo corretto per fare il parsing di una stringa sia controller integer punto parse int scusate non era get integer ma è parse int proviamo a rieseguire l'applicazione questa volta dovrebbe funzionare sì esattamente nell'interfaccia grafica vengono stampati quali sono i corsi relativi al secondo semestre che sono presenti nel database di scritti i corsi quindi ricapitolando la mia applicazione è costituita da tre packages il package del controller il package del db il package del model il controller che è quello che collega l'interfaccia grafica con la logica dell'applicazione il controller parla soltanto con il model non fa accesso diretto al db il model parla con la classe dao per fare accesso al db la classe dao viene unicamente utilizzata per implementare l'accesso al db quindi l'accesso specifico al supporto dove sono salvati i dati effettuiamo però qualche miglioramento sull'architettura dell'applicazione anzi prima di tutto testiamo se i controlli che abbiamo effettuato sull'interfaccia sono corretti quindi se inserisco ciao ovviamente mi da errore se inserisco uno va bene se inserisco due va bene se inserisco tre la condizione di errore è corretta quindi abbiamo implementato correttamente i nostri controlli sulle condizioni di errore sull'input dell'utente perché ricordatevi che l'input dell'utente è sempre untrusted quindi non possiamo fidarci di quello che l'utente inserisce manualmente di quello che l'utente scrive in un'interfaccia grafica dobbiamo sempre effettuare dei controlli su tutto quello che l'utente fa tornando per cercare di strutturare meglio la nostra applicazione torniamo nel model siccome nel model quello che faccio è accedere spesso ai dati del DAO e questo lo faccio tramite la classe corso DAO vorrei che il riferimento alla classe corso DAO vorrei che l'oggetto DAO rimanesse in memoria tra una chiamata e la successiva quindi nel costruttore di model vado a creare il riferimento vado a creare l'oggetto corso DAO quindi public model scrivo corso DAO uguale new corso DAO cambio anche il nome perché poi creeremo un'altra classe DAO quindi non voglio confondermi crea una nuova variabile privata globale che chiamo corso DAO quindi qui crea una variabile qui associo all'interno del costruttore associo a questa variabile un nuovo oggetto corso DAO non c'è più bisogno di crearla all'interno di lista corso semestre e all'interno di lista corso semestre devo cambiare il nome che da DAO è diventato corso DAO sia qui che nell'implementazione numero 1 questo perché mi serve perché ho fatto tutto ciò perché all'interno delle model avrò più metodi che fanno accesso ai dati non voglio che all'interno di ogni metodo debba creare una nuova classe corso DAO per poter accedere ai metodi del DAO la creo una sola volta e poi la tengo in memoria perché il model vive per tutto il ciclo di vita dell'applicazione quindi una volta creato il corso DAO posso sempre accederci secondo miglioramento che faccio è al livello del package DB perché all'interno di corso DAO in tutti i metodi di corso DAO ottengo una connessione devo creare una nuova connessione come faccio ad ottenere una nuova connessione utilizzo il driver manager vorrei però spostare questa questa istruzione che sembra essere molto specifica con una più generica per esempio per il concetto di astrazione cercare di astrarre l'implementazione specifica e delegare questi metodi ad una classe più specializzata quindi voglio creare una classe specializzata nel darmi una connessione al database che chiamo connectDB la creo nel package it polito tdp corecdb questa classe connectDB implementa il pattern singleton cosa significa? significa che viene creato una variabile statica che dà una connessione e questa connessione deve essere condivisa con tutti i metodi che ne fanno richiesta quindi la prima volta viene creata e poi per tutte le successive richieste viene condivisa ma sempre la stessa variabile e questo è utile sia per una questione di ottimizzazione sia perché nelle prossime lezioni vedremo di sostituire il modo in cui ci colleghiamo al database con il concetto con il metodo del connection pooling per aumentare le prestazioni di connessione e questo è possibile se abbiamo definito il metodo getConnection in una classe specializzata quindi creiamo la classe connectdb creiamo una variabile globale privata static connection con importiamo java sql connection creiamo un metodo public static che ritorna una connection che si chiama getConnection questo metodo ritornerà la connection quello che fa effettuare un controllo se la connessione è uguale uguale a nulla o se la connessione è chiusa allora connection è uguale a driver manager punto getConnection copiamo l'istruzione dal DAO quindi connection è uguale a driver manager punto getConnection di JDBC URL la JDBC URL la copiamo nuovamente da corso DAO adesso dobbiamo ancora aggiungere l'istruzione di try catch ora dobbiamo prima sostituire dobbiamo aggiungere la parola static a JDBC URL perché siccome facciamo accesso a JDBC URL all'interno di un metodo static anche le variabili devono essere static static significa che sono condivise per tutti e per tutte le istanze di quella classe ossia non è una variabile che esiste in ogni istanza della classe connectDB ma è una variabile della classe connectDB quindi è condivisa tutte le volte che chiamo per tutte le istanze della classe connectDB tutte le volte che chiamo la classe connectDB ho la stessa variabile quindi non esiste la variabile assoluta da un oggetto ma è proprio la variabile della classe il tutto deve essere all'interno di un metodo try catch perché sto tentando di connettermi al DB e il DB potrebbe essere potrebbe dare un errore qua invece l'errore anche qui va all'interno di un try catch quindi all'interno del try scrivo se la connessione è chiusa o non esistente ne crea una nuova altrimenti la restituisco se avviene se avviene un'eccezione scrivo syserror errore errore di connessione al DB e poi lancio una nuova eccezione di tipo runtime exception quindi per ricapitolare ho creato una nuova classe che si chiama connectDB dove ho definito un metodo static get connection questo metodo mi restituisce una connessione quindi astrà i dettagli di come mi connetto effettivamente al DB quindi questo permette di semplificare il DAO in cui non ho più bisogno di inserire JDBCURL ma semplicemente devo chiamare la classe connectDB e il metodo get connection per il resto l'implementazione non cambia e questo come ho detto ci servirà per quando passeremo dall'apertura della singola connessione all'utilizzo della libreria connection pooling per aumentare l'efficienza di connessione al database proviamo a vedere se l'applicazione funziona ancora inseriamo un semestre facciamo cerca e otteniamo ancora lo stesso risultato quindi tutto funziona correttamente ricapitolando pattern mvc per la separazione del controller dal model pattern DAO per la separazione di come i dati di come si accede effettivamente ai dati rispetto al modello logico di quali informazioni mi servono quindi il model dialoga con il DAO per l'accesso ai dati il DAO implementa effettivamente l'accesso ai dati però il DAO non salva nulla è stateless nel DAO non aggiungerò mai delle collection come variabili globali tutte le informazioni devono essere sempre salvate nel model per testare il model ho una classe test model in modo tale che una volta che ho verificato il metodo del model sia corretto lo implemento in controller fatta questa implementazione diciamo che voglio aggiungere nel model una nuova funzionalità voglio aggiungere la funzionalità di dato una matricola voglio il nome e il cognome di uno studente utilizziamo l'approccio top down per implementarlo quindi parto dal test model che è dove vado a testare la mia classe e scrivo m.get nome cognome by matricola matricola quindi definisco la mia matricola int matricola uguale una matricola reale la vado a prendere dal database quindi utilizzo SQL Pro o ID per andare nella tabella studente e prendere una matricola quindi definisco una matricola 146101 definisco che voglio un metodo del model che si chiama get nome cognome by matricola che mi restituisce una stringa e alla fine stampo queste informazioni ossia matricola due punti più matricola più nome cognome studente più result quindi stampo la stringa result che mi viene data da questo metodo get nome cognome by matricola ora devo implementare get nome cognome by matricola l'approccio top down è quello che permette quello che parte dal livello più alto dal livello di astrazione più alto quindi parto a livello del model a livello di test model dico quali informazioni stabilisco quali informazioni ho bisogno in questo caso nome cognome data la matricola e poi via via l'implemento sempre ad un livello di dettaglio maggiore quindi dal test model implemento questo metodo nel model facendolo creare iClips e il model ovviamente per accedere a questa informazione avrà bisogno di accedere al DAO tramite il DAO di accedere al DB in particolare il model potrebbe farsi restituire un oggetto studente dato una matricola perché ad esempio potrei richiedere diverse informazioni per quello studente non solo il nome e il cognome ma anche ad esempio il percorso di studio quello iscritto e non voglio definire diverse query nel DAO per ottenere informazioni sempre relative ad uno stesso studente è molto più semplice definire nel DAO una semplice query che mi restituisce tutto l'oggetto studente tutte le informazioni di oggetto studente e poi nel model filtrare queste informazioni in base alle richieste del controller o del test model quindi nel model definisco un metodo get studente by matricola che mi ritornerà quindi che prende una matricola in input e mi ritornerà un oggetto studente che però non ho ancora creato questo get studente by matricola su quale classe la chiamo abbiamo detto che ho bisogno del DAO però non voglio implementare un metodo che mi ritorna uno studente nella classe corso DAO utilizzo una nuova classe DAO che chiamo studente DAO quindi all'interno del model definisco una nuova variabile globale che chiamo studente DAO che inizializzano il costruttore studente DAO uguale new studente DAO sulla quale richiamo poi questo metodo get studente by matricola adesso quindi ci mancano due cose la classe di implementare la classe studente e la classe studente DAO la classe studente è come la classe corso corso cos'era? era un java bin ossia un contenitore di informazioni cos'è il java bin? il java bin è una particolare classe in java che soddisfa alcuni criteri in pratica deve implementare un costruttore con e senza argomenti deve avere dei metodi public getter e setter e tutte le stanze delle variabili devono essere private quindi semplicemente è un contenitore di informazioni in più noi diciamo che un java bin deve implementare la funzione hashcode equals e spesso implementa anche il metodo toString ma questo per convenienza hashcode e equals servono per il confronto per poter utilizzare alcune collection come le tabelle basate su tabelle di hash quindi le hash map e gli hash set quindi definiamo una nuova classe studente di tipo java bin all'interno di studente creo alcune variabili private che sono la matricola il nome che è una stringa il cognome il corso di studi che chiamiamo cds credo andiamo a verificare nel db come si chiama cds esattamente a questo punto definiamo un costruttore senza argomenti definiamo anche un costruttore con tutti gli argomenti ma ce lo facciamo creare da Eclipse quindi source generate constructor using fields li utilizziamo tutti quanti ci facciamo generare getter e setter per tutte le variabili quindi abbiamo getter e setter ci facciamo generare un il metodo escode e equals che servono per il confronto su quale essendo uno studente quello che mi serve per effettuare il confronto è la matricola so che due studenti sono uguali due oggetti studente sono uguali se si rifanno se si riferiscono alla stessa matricola perché teoricamente il nome e cognome potrebbero essere duplicati potrebbero avere due studenti con lo stesso nome e cognome ma una matricola è differente invece la matricola è univoca per ciascun uno studente e poi creo ancora un toString nel caso in cui volessi stampare l'oggetto quindi così ho definito un nuovo contenitore un nuovo java bin per lo studente così come prima avevamo fatto con il corso quindi studente corso adesso mi serve creare la classe studente DAO la classe studente DAO fa le stesse operazioni che fa la classe corso DAO soltanto relativamente allo studente quindi studente DAO perché non ho implementato tutto in corso DAO perché vorrei avere delle classi che siano il più semplici possibili quindi in corso DAO implemento tutta la logica relativa ai metodi che mi restituiscono informazioni sui corsi in studente DAO implemento tutta la logica di accesso alle informazioni per metodi che mi restituiscono informazioni sullo studente mi copio da uno dei metodi di corso DAO il codice per effettuare una query perché questo è abbastanza standard quindi in studente DAO devo implementare il metodo getstudente by matricola che ho definito nel model includo studente DAO e implemento e clicco su create method quindi Eclipse direttamente mi crea il metodo l'implementazione è quella che abbiamo compiato da corso DAO solo che questa volta dobbiamo cambiare sia la query che il tipo di informazione che andiamo a ritornare perché non sarà più un corso ma sarà uno studente e il risultato non sarà una lista ma sarà un singolo studente quindi studente result uguale null ritorniamo result e non sarà più un ciclo while perché al più mi restituirà una perché al più la mia query mi restituirà una riga di una tabella se la matricola esiste se la matricola non esiste non mi restituirà nessuna riga quindi devo sostituire il while con un if quindi se c'è un risultato crea un nuovo oggetto associa risalto un nuovo oggetto studente che completo usando diverse informazioni che sono la matricola nome cognome il codice di studio e il corso di studio però qual è la query SQL che devo fare per ottenere tutte le informazioni di uno studente data la matricola la query è meglio che vada a testarla prima sul mio client per interfacciarmi nel DB in questo caso SQL Pro e quindi scrivo select matricola nome cognome cds from studente where matricola uguale a prendiamo la prima matricola disponibile se le eseguo ottengo la seguente risposta quindi mi dice che esiste uno studente se però la cambio se studisco l'ultimo uno con il due non ottengo più nessun risultato ed era il discorso che facevamo prima quindi una volta che ho definito la mia query che l'ho testata ho corretto tutti gli errori vado la copio dal mio client a java e quindi scrivo string SQL uguale select matricola nome cognome cds from studente where matricola uguale ovviamente non devo più specificarla ma come prima utilizzo il punto interrogativo per settarla tramite il prepare statement quindi sotto l'istruzione del prepare statement scrivo st punto set int perché la matricola è l'intero 1 perché è il primo punto interrogativo e la matricola è matricola a questo punto come dicevo sottolineisco il while con l'if questo lo devo fare tutte le volte in cui mi aspetto di ottenere al più un risultato o 0 se ho una condizione di errore altrimenti il while mi permette di iterare su tutti i risultati è un ciclo in particolare su tutti i risultati e alla fine se ho trovato lo studente creo un nuovo oggetto studente che associa il result altrimenti il result sarà null quindi vi devo ricordare che poi nel model potrei ricevere un oggetto null e devo fare il controllo su questo quindi il result new student devo andare a inserire a completare le informazioni di studente che sono matricola nome cognome cds quindi res.getstring di nome res.getstring di cognome res.getstring cds e la prima informazione che devo inserire però è la matricola quindi matricola matricola è inutile che la prenda dalla tabella perché già mi viene restituita mi viene già passata come parametro in input quindi potrei anche toglierla dalla query quindi select nome cognome cds da studente dove la matricola è quella specificata come parametro del metodo e in caso in cui ottengo una risposta l'associo a result e restituisco il result quindi tornando nel model nel model ho un metodo di studente dao che si chiama getstudente by matricola che mi permette data una matricola di ottenere un oggetto studente però questo metodo deve restituire semplicemente una stringa che è il nome e il cognome quindi scrivo return studente punto get nome spazio più studente punto get matricola vado in test model per testare se la mia implementazione è corretta però ho un errore in sql perché ho scritto nome al posto di nome quindi vado in studente dao correggo la query sql correggo anzi il parsing dell'sql perché ho scritto nome al posto di nome a questo punto ritorno in test model rieseguo il programma e quello che ottengo è che per la matricola 146101 o Claudio però ho fatto di nuovo un errore perché nel model scusate non devo restituire la matricola ma devo restituire il nome e il cognome quindi studente punto get cognome quindi ritorno in test model rieseguo il programma e ottengo l'output desiderato rifaccio la stessa istruzione ripeto le stesse istruzioni però questa volta cambio la matricola metto una matricola inesistente quindi 146102 che prima ho visto questo non esiste riseguo il programma e questa volta una null pointer exception questo perché nel main nel model mi sono dimenticato di fare il controllo su studente uguale uguale a null quindi se lo studente è uguale a null quindi se non ho se la query non ha trovato nessuno studente con quella particolare matricola il metodo che è studente per matricola ritorna null quindi devo effettuare il controllo che l'oggetto sia diverso da null altrimenti ritornare la stringa non ho trovato nessuno studente associato a quella matricola ora l'implementazione dovrebbe funzionare dovrebbe essere corretta vediamo effettivamente nel primo caso mi restituisce il nome e il cognome associato a quella matricola nel secondo mi dice non ho trovato nessuno studente associato a quella matricola svolgiamo ancora un punto sull'esercizio elenco corsi diciamo che voglio associare a ciascun corso delle statistiche perché se guardate come fa il database scritti corsi a ciascuno studente è associato un cds che è il corso di studi quindi voglio diciamo che voglio ottenere delle statistiche per ciascun corso voglio sapere quali sono gli studenti iscritti e in particolare voglio sapere quanti sono gli studenti iscritti per ciascun corso di studio come fare tutto questo come prima due approcci il primo è quello di prendere tutte le informazioni che ho nel database portarle in java ed effettuare questo calcolo direttamente in java però se ci pensate non è banalissimo perché è già una query complessa è molto più semplice invece sfruttare la potenza delle sql la potenza del database effettuare la query direttamente sul database e ottenere il risultato che voglio qui sono interessato nel dao quindi tenere il codice il più semplice possibile facendo una query un pochino più complessa quindi cosa voglio in questa query voglio selezionare degli studenti quindi select in realtà non degli studenti ma il numero di studenti per corso di studio quindi select cds che è il corso di studio e il numero degli studenti per corso di studio quindi count di cds from da dove dalla tabella utilizzo la tabella studente e la tabella iscrizione ricordiamoci che la tabella studente contiene le informazioni su ciascuno studente la tabella iscrizione contiene la relazione tra quali studenti sono iscritti a quali corsi nella clausola where devo fare il join tra le due tabelle per semplicità definisco un alias per ciascuna tabella e quindi nella clausola where dico s.matricola deve essere uguale ai.matricola e poi voglio selezionare anche uno specifico corso quindi i.codins deve essere uguale a prendiamo un corso a caso dalla tabella corsi c'è un esempio ingegneria della qualità seleziono il codice di insegnamento direttamente non il nome perché altrimenti avrei dovuto fare anche il join tra la tabella codice tra la tabella iscrizione e la tabella corso quindi per semplificare la query direttamente inserisco il codice di insegnamento che comunque ho perché prima se vi ricordate ho ottenuto la lista di tutti i corsi ho già un metodo nel model che mi permette di ottenere la lista di tutti i corsi a questo punto devo ancora fare il group by il group by su cds se eseguo la query ottengo il seguente risultato ossia che per questo corso ho 328 iscritti che sono 323 a gestionale zt4 3 iscritti a gestionale 2t4 uno ad edilizia ed uno a cinema quindi approccio top down parto dal test model dico voglio stampare delle statistiche quindi immagino ottenere una stringa result con delle statistiche definisco un metodo nel model che mi di che si chiamerà get statistiche from corsi e alla fine semplicemente stampo result quindi devo andare a implementare all'interno del model un metodo che mi restituisca get statistiche from corsi cosa deve fare questo metodo deve iterare su tutti i corsi esistenti ricordandoci che i corsi li otteniamo tramite il metodo abbiamo già un metodo del DAO che ci permette di ottenere tutti i corsi che è questo list all quindi con il metodo list all dei corsi DAO posso già ottenere tutti i corsi del DAO devo ciclare su ciascun corso e associare a ciascun corso delle statistiche quindi for corso c due punti dis punto corsi corso DAO punto get statistiche by codins utilizzo uno string builder perché voglio alla fine ritornare una stringa quindi per fare la concatenazione di string utilizzo uno string builder string builder sb uguale new string builder sb punto append di cosa faccio append di corso DAO punto get statistiche by codins quindi diciamo che questo metodo di corso DAO mi restituisce una stringa oppure ancora meglio mi restituisce una classe quindi facciamo un passaggio intermedio diciamo che corso DAO get statistiche by codins mi restituisce una classe statistiche e poi stampo la classe stat ovviamente devo ancora definire tutto sto soltanto definendo il tipo di informazione che voglio con un approccio top down e poi vado a implementarle perché è più semplice utilizzare un approccio top down che un approccio bottom up perché è più semplice partire da quello che realmente voglio e poi andarlo a implementare che partire dall'implementazione specifica una volta che abbiamo visto che con la query possiamo ottenere queste informazioni utilizziamo un approccio top down quindi alla fine come ultima istruzione ritorniamo sb.toostring quindi ritorniamo una stringa dobbiamo definire la classe statistiche la classe statistiche è una classe del model perché è di nuovo un contenitore di informazioni quindi new class non interface scusate class statistiche questa classe statistiche al suo interno cosa dovete contenere deve contenere una mappa perché deve associare a ciascun cds corso di studio un contatore quindi ottiene una mappa tra una stringa che è il cds e un contatore che è un intero cioè un intero che è un contatore quindi definisco una mappa una map tra string e integer mappi chiamo mappa cds definisco un costruttore pubblico public statistiche in cui creo la mappa effettivamente new hash map in cui specifico i generics importo la classe javutil map e poi definisco un get resetter sulla mappa set mappa get mappa e un metodo to string che mi stampa la mappa quindi source generate to string che semplicemente mi ritorna una mappa dei corsi di studio punto to string non è necessario in questo caso ridefinire hash code e equals perché non ho intenzione di aggiungere oggetti statistiche all'interno di una collection semplicemente sono un oggetto intermedio dove salvare delle informazioni quindi tornando nel model mi resta che implementare il metodo mi resta che implementare il metodo get statistiche by codings si è dato un codice di insegnamento che è il c.get codice di insegnamento e istituisce un oggetto statistiche perché non tornare direttamente la mappa ma passare tramite un oggetto intermedio per il discorso dell'incapsulamento dei dati perché un domani potrei decidere di aggiungere altre informazioni che non sono semplicemente salvabili in una mappa e quindi queste informazioni le voglio salvare all'interno di una classe che è la classe statistiche che fa da contenitore per ora è il contenitore di una mappa un domani potrebbe contenere anche altre informazioni quindi soltanto per strutturare un po' meglio il codice quindi riprendiamo dal dall'implementazione del metodo get statistiche by codice insegnamento che va implementato all'interno di corso dao l'implementazione è simile a tutte le altre quindi definiamo la nostra query SQL che copiamo dal client di prima effettuiamo solo una modifica ossia quella di inserire anche un alias per la colonna count in modo tale che venga fuori la parola count per la colonna su cui facciamo appunto l'operazione di count di cds quindi definiamo la nostra query definiamo l'oggetto statistiche dove andiamo a salvare le informazioni scriviamo un blocco tra i catch dove facciamo il catch di sql exception e come prima lanciamo una nuova throw new runtime exception e poi nel try qual è l'errore che abbiamo qua remove catch clause ok nel try dobbiamo prendere una nuova connessione quindi connection con uguale connect db punto get connection e alla fine dobbiamo chiuderla quindi connection punto close poi prepare statement possiamo copiarla nel prepare statement dobbiamo andare a sostituire al punto inderogativo una stringa punto inderogativo quindi set string punto inderogativo in posizione 1 sostituiamo la stringa code ins punto inderogativo lo andiamo a stituire al posto del codice del corso effettuiamo la query e poi iteriamo sul risultato quindi result set st punto execute query fino a quando res punto next fino a quando ci sono dei valori quindi inseriamo all'interno della mappa il codice di studio la coppia dei valori codice di studio e la coppia chiave valori codice di studio account quindi stat punto get map punto put res punto get string cds res punto get string count non è get sing ma get int perché il valore è un intero quindi riempiamo la mappa e alla fine e alla fine ritorniamo statistiche quindi return stat alla fine del metodo quindi torniamo nel model nel nostro model diciamo ok per ciascun corso queste sono le statistiche quindi stampiamo anche il codice di insegnamento quindi code ins due punti più c punto get code ins mettiamo uno spazio e poi stampiamo le statistiche associate a quel corso eseguiamo l'applicazione quindi torniamo nel test model eseguiamo l'applicazione e quello che otteniamo è questo output non molto bello dal punto di vista grafico ma comunque funziona come ci aspettavamo quindi abbiamo il codice di insegnamento e poi abbiamo per ciascun corso di studio un numero di studenti iscritti a quel corso se volessimo migliorare un pochino l'output potremmo ad esempio tornare in model e piuttosto che stampare direttamente l'oggetto statistiche si potrebbe iterare sulle chiavi della mappa all'interno di statistiche e stampare il valore quindi potremmo scrivere sb.append prima iteriamo sulle chiavi quindi for string cds due punti stat punto getmap punto keyset keyset mi restituisce il set di chiavi data la mappa a questo punto scrivo sb.append più cds più spazio più stat punto getmap punto get otteniamo il valore data la chiave la chiave il cds otteniamo il valore e alla fine aggiungiamo ancora il ritorno a capo facendo così get cds cds ritorna un intero giusto facendo così dovremmo ottenere per ciascun corso l'elenco dei corsi di studio e dei numeri di scritti per ciascun corso di studio proviamo a ristampare adesso effettivamente l'output è un po' più carino vediamo ancora un problema che è quello di queste stringhe vuote perché abbiamo visto che nella tabella studente scegliendo un altro corso come esempio strategia o tecnologia del marketing ci sono alcuni cds che sono vuoti come facciamo a filtrarli dobbiamo modificare la query quindi andiamo quindi andiamo nel in corso dao e aggiungiamo nella clausola di where che cds deve essere diverso dalla stringa vuota quindi rieseguiamo il nostro test model e questa volta non otteniamo più codici non otteniamo più corsi di studio vuoti per rendere tutto più comprensibile potremmo ancora nel model aggiungere un backslash n qui quindi sb.append backslash n per separare ciascun corso da quello successivo eseguendo nuovamente otteniamo quindi per ciascun codice insegnamento il numero di iscritti quindi in quest'ultimo esercizio cosa abbiamo fatto abbiamo creato una nuova classe statistica che al suo interno utilizza una mappa nell'ora successiva poi vedremo la teoria che c'è dietro le hash map le hash map e gli hash set si basano sulla stessa struttura dati sottostante che è la tabella di hash quindi studieremo cos'è la tabella di hash la tabella statistica cioè la classe statistica viene creata all'interno del metodo del DAO get statistica by codice insegnamento perché abbiamo visto che è molto più semplice utilizzare la potenza di sql per filtrare i risultati e ottenere le informazioni di cui realmente abbiamo bisogno piuttosto che prendere in memoria tutte queste informazioni e filtrarle a livello del model cerchiamo anche di studiare qual è l'architettura migliore per l'applicazione e qual è il modo per scrivere meno codice perché meno codice scriviamo e minore anche il numero di errori che possiamo introdurre alla fine ottenuta le statistiche per ciascun corso stampiamo il risultato qui si conclude l'esercizio creiamo un nuovo branch dove salvarlo switch to new branch soluzione numero 2 soluzione soluzione finish facciamo il commit e il push di questa nuova versione aggiungendo anche tutte le altre classi che abbiamo creato nel frattempo rispetto al branch master quindi nuova soluzione e facciamo il commit